buongiorno a tutti amici amici di I am Mr. Broker Vareani torno a fare video per parlare di MotoGP perché sono appena terminate le qualifiche del GP di Portogallo domani ore 14 da Zone Sky per chi vuole vederlo e domani ci aspetta una gara meravigliosa ma dobbiamo parlare di un uomo di un esempio di un miracolo di un uomo con le palle di un ragazzo meraviglioso che sorride come un bambino perché sta tornando a fare quello che gli piace ovvero bullizzare sportivamente gli altri e seminarli ovvero Mark Marquez perché quello che ha fatto Mark poi parliamo dello schifo a pecco bagnaio a cui hanno tolto ingiustamente una pole ma quello che ha fatto Mark Marquez in questo weekend dopo nove mesi da incubo senza fare quello che gli piace è veramente straordinario perché tornare e poi ogni giro veloce ha un sorriso perché sa che sta tornando quello di prima e sa che può tornare a vincere ma tornare il primo giorno il venerdì ed essere terzo il sabato essere quarto domani partire sesto dopo nove mesi essere la prima onda dopo nove mesi essere la prima onda rispetto agli altri la onda si deve vergognare perché quello a mezzo servizio Marquez a mezzo servizio e con un braccio e mezzo va più forte degli altri va più forte di Nakagami che è caduto e si è stravaccato un'altra volta va più forte di Polespargaro al massimo va più forte di qualcuno con nove mondiali e mele con nove mondiali che non riesce ad arrivare in cuno non l'avete manco col binocolo aperto e chiusa per endesi un messaggino per i rossiani qualcuno che sfotteva Mark Marquez che non era in cuno il vostro amichetto neanche al 100% l'avete la cuno neanche con tutte e due le braccia sane quello dopo nove mesi l'ho asseminato va più forte di lui dopo nove mesi di assenza forse è meglio che vi fate i fatti vostri che fate più bella figura ma quello che ha fatto Marquez è un esempio è una cosa che va al di là dello sport io non sono marxiano non sono tifoso di Mark Marquez sono Lorenziano e hashtag basta i org basta ritiro vedi che si può fare vedi che si può fare vedi che si può fare torna anche tu muoviti me ma a parte quello quello che ha fatto Marquez è veramente fuori da ogni regola vanno fatti soltanto gli applausi gli osanna perché è una cosa che va al di là dell'essere umano perché con un braccio con una cicatrice da spavendo sull'omero destro che se la guardi ti vengono i brividi per quanta cicatrice c'è in quel braccio destro tre operazioni la prima è andata male la seconda pure la terza la prima era andata bene poi si è rotta la seconda poi si è rotta la placca poi hanno fatto un errore un'infezione ha rischiato di smettere ma è tornato con tanta bestialità e l'abbiamo visto l'abbiamo visto perché partire dopo nove mesi di assenza nove mesi da 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 gerezze dell'anno scorso da quando ha provato a rientrare e non ce l'ha fatta tornare ed essere ancora lì davanti a bullizzare a fare macelli a fare panico andare come un missile e a fare i suoi numeri da circo è tornato il marziano e ci divertiamo ma parliamo degli altri della meravigliosa giro di pecco tolto per una bandiera gialla scandalo ridate ridate la pole position a che compagnaia è una vergogna avergli tolto quel giro 1.38.2 fatto da solo senza traino per una bandiera gialla che non avrebbe visto nessuno a Max Biaggi tolsero un titolo mondiale per colpa di una bandiera gialla vergognosa forse è ora di cambiarlo questo schema delle bandiere gialle perché non si capisce una mazza bene Fabio Quartararo bene Rince bene la Suzuki bene Mir che è tornato dalla Q2 alla Q1 un po' male Vignales è risorto in morbido nel team Petronas con la moto vecchia mentre qualcun altro con la moto nuova sta facendo schifo è forse il caso che appende il casco al chiodo e mette la parola fine perché sennò rischiamo di vedere immondizie rischiamo di vedere ogni domenica figure di merda e vergogne varie male male la Honda perché se un pilota ha mezzo servizio è più forma di tu va meglio degli altri vuol dire che la moto è una merda e ci sono dei problemi perché se va solo Marquez gli altri o si stravaccano vedi Nakagami che si è fatto male Polespargaro prende una vita e potrei allargare anche lui il discorso di sbettere visto che torna il capobranco dopo nove mesi e bastona il compagno di squadra che però ha l'attenuante che è appena arrivato però deve darsi una smossa perché nel team ufficiale Honda servono i risultati il fratello di Marquez troppi altri bassi e gli altri bene Oliveira bene Zarco che si trova terzo per la penalità di Bagnaia è leader del mondiale quindi domani un mucchio selvaggio un mucchio selvaggio tutti a vedere questa gara e sono sicuro che Mark Marquez farà un macello in senso buono quello domani gli si chiude la vena e poveri chi ci capita perché veramente quella tanta bestialità da portare in motocicletta che non potete neanche immaginare ed è bellissimo ribadisco vedere il suo sorriso perché veramente sta capendo che è finita l'incubo che ha vissuto e vede che i tempi arrivano e allora si carica ancora di più e sono problemi per tutti ma ribadisco in chiusura di questo video hashtag ridate la pole position a Checco perché è una vergogna aver tolto la pole position a Checco Bagnaia per una bandiera gialla vergognosa ci vediamo domani per per Mila Genova video post partita e ci vediamo presto ciao a tutti